Allora, mi chiamo Martina Casale, mi chiamo Martina Casale e becco la Messina. Ho 26 anni e mi sono laureata nello scorso anno in chimica e tecnologia farmaceutica. Sono Martina, ho 30 anni, sono di Messina, sono laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Messina, ho fatto due anni di dottorato di ricerca e ho lavorato anche come farmacista. In famiglia siamo in quattro, io, mia mamma, mio papà e ho una sorella più piccola che si chiama Roberta e ha 29 anni. Ho un fidanzato che si chiama Nicola e il prossimo anno ci dobbiamo sposare. Ci vogliamo sposare.